Oggi parliamo di te, finalmente no, non di te Argo, ma di te, Serratura Smart. Ciao a tutti i matricologi, il prodotto di oggi è decisamente interessante perché andremo a parlare di Serratura Smart e andremo a vedere quello che era il contenuto di questa scatolina, ovvero la Serratura Smart di WeLock che troviamo tranquillamente in vendita su Amazon in diverse configurazioni, la mia è quella con il tastierino numerico ma c'è anche volendo quella con il lettore di impronti digitali e si tratta di un prodotto veramente veramente interessante. prima di iniziare vi ricordo che sul mio canale Instagram, trovate comunque tutti i link del caso qui sotto in descrizione vi ho raccontato, e vi invito ad andare a scoprire quei video, un po' le varie fasi dell'installazione quasi in tempo reale, questo per farvi capire la sua facilità di montaggio certo potreste andare incontro ad alcune difficoltà così come le ho riscontrate io ma cercherò di descrivervele anche in questo video però diciamo che nel complesso se la vostra serratura, la vostra porta blindata rientra in alcuni parametri l'installazione è veramente veramente semplice prima di vedere il prodotto direi di fare un distinguo tra le varie serrature smart perché ormai ne esistono di diverse tipologie questa qua di Willock se vogliamo è parzialmente smart perché si tratta di una serratura bluetooth con alcune cose con alcune feature che la rendono decisamente interessante ci sono poi delle serrature molto più sofisticate se vogliamo che vanno a interfacciarsi con magari il router vanno online e permettono quindi una gestione da remoto ma se anche tu così come io hai una porta blindata a quel punto della serratura che posso azionare da remoto me ne faccio fino a un certo punto perché cosa succede nel momento in cui io esco di casa e chiudo tutti i cilindri a quel punto io da remoto potrò azionare quella su cui sono andato a montare la serratura smart ma rimarrà sempre l'altro cilindro chiuso e quindi rimango chiuso fuori sostanzialmente ed è per questo che mi sono trovato veramente bene con la soluzione di Willock perché è il giusto compromesso secondo me che va a facilitare la vita quotidiana va a renderla semplicemente più semplice, più rapida l'apertura, la chiusura della porta senza però andare a complicare un po' troppo le cose ora però andiamo a vedere la serratura ciao Argo oggi ti rendo un po' protagonista del video come detto inizialmente le serrature composte di due parti la parte interna che è sostanzialmente una parte meccanica che mi permette di chiudere o aprire il cilindro e poi la parte esterna che è una parte elettronica che ingloba il tasterino e mi permette appunto di effettuare l'accesso tramite un codice o tramite dei comodissimi tagger e feed che andremo a vedere tra poco durante le operazioni di montaggio sostanzialmente si va a svitare questa parte si sfila e sostanzialmente si inserisce il blocco dall'esterno l'unica difficoltà che potreste incontrare e che è quella che ho incontrato io è dovuta alle peculiarità della vostra porta blindata ovvero il fatto che qua potreste non avere la vite che va ad effettuare il blocco del cilindro io infatti avevo un blocco interno che mi ha dato diciamo a non poche difficoltà in fase di installazione perché appunto essendo che la parte elettronica è diciamo un pezzo unico insieme con il cilindro ha reso difficile appunto la fase di installazione ho dovuto per questo andare a smontare diciamo tutta la parte frontale la lamiera qua frontale e cercare un accesso all'interno allargando un pochino il pannello di legno e in quel modo sono andato diciamo a riuscire a fissare il blocco sul cilindro questo però ripeto vale soltanto nel caso in cui la vostra serratura non abbia una vite qui presente o non abbia diciamo un blocco uno sblocco facilitato per quanto riguarda il cilindro per aprire e chiudere come funziona praticamente bisogna attivare il tastierino numerico premendo uno qualsiasi dei tasti presenti poi bisogna digitare il nostro codice segreto oppure avvicinare uno dei tre tag RFID presenti in confezione ho a questo punto qualche secondo per andare a ruotare diciamo il cilindro e passati quei due o tre secondi la manopola andrà in posizione neutra e quindi ruoterà all'infinito diciamo evitando eventuali operazioni di manomissione per utilizzare i tre tag RFID bisogna seguire semplicemente le istruzioni presenti in confezione per diciamo andare ad abbinare i tag alla serratura la serratura è alimentata da tre pile AAA che hanno una durata di alcuni mesi e so già cosa mi state chiedendo cosa succede nel momento in cui le pile vanno ad esaurirsi e allora qua sostanzialmente si va a svelare questo sportellino che è equipaggiato di una porta micro usb qua volendo io posso andare a diciamo abbinare un power bank per fornirgli quell'alimentazione necessaria di emergenza per permettermi lo sblocco sono operazioni diciamo estreme che possono capitare però sostanzialmente si risolve in maniera molto semplice l'autonomia la posso controllare tramite l'app che secondo me è probabilmente uno dei punti deboli di tutto il sistema l'app è la parte probabilmente meno interessante di tutto il sistema ma perché probabilmente finirete per non utilizzarla è vero mi permette di avere uno storico degli accessi ma anche qua uno storico soltanto degli accessi venuti tramite lo smartphone oppure ed è la funzione forse più utile dello smartphone la possibilità di creare delle password provvisore immaginiamo la donna delle pulizie che deve arrivare a una talora e quindi io posso andare a creare una password che le dia acceso soltanto in determinate fasce orarie ma probabilmente la cosa che vi servirà più di tutte è appunto il controllo dello stato della batteria e qua vedete che la piletta posta qua sotto è ancora quasi al 100% nonostante sia attiva da ormai qualche settimana però ripeto l'app secondo me la lascerete perdere perché avendo il pin numerico e avendo il comodissimo tag RFID finirete per non utilizzarlo perché sono talmente comodi queste opzioni di accesso che lo smartphone servirà soltanto per le operazioni di fino o per alcune cose in definitiva è un prodotto che mi è piaciuto veramente tantissimo in queste settimane di utilizzo perché ha reso più facile ma soprattutto più veloce un'operazione che io vado a compiere tutti i giorni ma soprattutto più volte al giorno la chicca finale è sicuramente la presenza del tag RFID che velocizza all'estremo questo concetto e lo rende molto più semplice non soltanto a noi ma pensiamo magari ai nostri figli ai nostri bambini che magari quando gli si dà in mano al mazzo di chiave gli dico apri la porta hanno qualche difficoltà giustamente a trovare la chiave corretta anche in lato sicurezza mi è piaciuto il discorso dello sblocco automatico del cilindro quando passano quei due o tre secondi dall'inserimento del codice perché avere diciamo una manopola esterna che ruota all'infinito permette di evitare eventuali forzature e quindi è un prodotto sicuramente interessante non costa poco perché è un prezzo che varia dai 160 ai 170 come prezzo normale salvo offerte però può offrire veramente tutta una serie di semplificazioni interessanti se siete interessati appunto a un prodotto sì smart non smart appunto come abbiamo detto in apertura perché non mi dà un accesso da remoto però mi permette comunque tutta una serie di agevolazioni io penso di avervi detto più o meno tutto se vi è piaciuto questo video mettete like condividetelo soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per seguire poi la pubblicazione dei prossimi video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.